La realizzazione di TAMO, tutta l'avventura del mosaico, è al centro dell'attuale stagione della Fondazione Ravenna Antica, che sta allestendo nel cuore di Ravenna stessa un grande centro espositivo innovativo, versatile e multiforme, dedicato al mosaico. L'inaugurazione del nuovo allestimento museale permanente nel complesso di San Nicolò, inizialmente annunciata per Pasqua, è stata posticipata al 20 di maggio, poiché Ravenna Antica già da tempo sta trattando per avere la concessione in uso di nuovi locali dei chiostri appartenenti al prestigioso complesso di San Nicolò. Questo complesso, dal 2004, è teatro di grandi mostre archeologiche allestite da Ravenna Antica e cambierà volto nel biennio per far scoprire ai ravennati e al pubblico italiano e internazionale un approccio originale e affascinante all'arte emusiva nella città dei mosaici. Il complesso diventerà un grande contenitore dove troveranno sede un'esposizione permanente di mosaici provenienti dal contesto di Ravenna e dal suo territorio, nell'arco cronologico che va dal I secolo al VII secolo d.C. e racconterà l'insieme della grande storia, tradizione e cultura musiva del territorio ravennate, spaziando fino al XIII secolo. Uno spazio riservato a esposizioni temporane, due lavoratori didattici, teorici pratici, con attività formative per le istituzioni scolastiche, in grado di coniugare divertimento e apprendimento a beneficio di ragazzi e docenti. Infine, una sezione multimediale illustrerà la storia del mosaico, seguendo il filo del lavoro nella sedimentazione lenta della tradizione, che si è rinnovata nel costante dialogo con le altre espressioni artistiche. Il progetto TAMO, curato dal professor Carlo Bertelli, è affidato ad un comitato scientifico composto da Giovanna Vucci, Chiara Guarnieri e Paolo Racagni. L'allestimento è progettato dall'architetto Paolo Bolzani, mentre il catalogo della mostra, edito da Schira, è curato dall'archeologa Giovanna Montevecchi. L'intero percorso si svilupperà con l'ausilio di soluzioni multimediali e interattive particolarmente adatte ad un pubblico giovane.